Scommettiamo che impazzirai per la ricetta del mio gelato vegano cremosissimo da preparare senza banana, senza latte di cocco e facile da realizzare anche senza gelatiera? Frullo Anacardi e acqua Latte Io ho utilizzato un latte di Anacardi fatto in casa ma puoi utilizzare anche latte di soia o latte di mandorle Misceliamo le polveri Lo puoi gustare da solo ma io lo rendo più goloso con ganache di cioccolato fondente Granella di pistacchi e crema pasticcera vegana Questo sì che è il gelato vegano che voglio io